L'intera famiglia, accusata dalla vittima di averla perseguitata, minacciata, molestata e abusata singolarmente in gruppo, era stata condannata in primo grado a 36 anni di reclusione complessivi. La sentenza della Corte d'Appello di Lecce, arrivata nelle scorse ore, rimescola però le carte. La prescrizione, in primis, consegna l'assoluzione a tutti per atti persecutori, minaccia gravata e stalking. L'accusa di violenza sessuale, invece, resta soltanto per lo zio della vittima. La cui pena, però, si alleggerisce notevolmente. Andiamo con ordine. I fatti contestati risalgono al 2014. La storia arriva da un paese del nord leccese. Accusati di essere gli artefici dell'orrore sono gli zii, le zii e i cugini della vittima, una donna con accertate fragilità di tipo psichico. Di tutti omettiamo le generalità a tutela di quest'ultima. Tra gli episodi più gravi, finiti al vaglio della prima sezione penale del Tribunale di Lecce, presieduta dal giudice Fabrizio Malagnino, quello del 22 dicembre del 2014. La donna raccontò di essere stata portata dallo zio e i cugini in campagna. Lì, a turno, l'avrebbero costretta a subire atti sessuali, con l'obiettivo di farle ritirare le denunce già sporte nei loro riguardi. Quattro giorni dopo, sempre stando all'accusa, la malcapitata sarebbe stata violentata in casa dal cugino 24enne, che, utilizzando un bicchiere rotto, l'avrebbe anche ferita. Il processo in primo grado si era concluso il 6 maggio 2021. Le condanne inflitte, si diceva, soprattutto per gli uomini furono pesanti. Lo zio 53enne fu condannato a 16 anni e 9 mesi di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. Difeso dagli avvocati Daniele Scala e Francesca Conte, in appello ha ottenuto una rimodulazione della pena, a tre anni e mezzo di reclusione, con l'interdizione ridotta a cinque anni. Al netto dei reati prescritti, restano a suo carico le minacce aggravate e un episodio di molestie sessuali, durante il quale avrebbe denudato e palpeggiato la nipote. Era di nove anni, invece, la condanna inflitta al 25enne figlio dell'uomo e cugino della vittima. Difeso dall'avvocato Parideleo è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale di gruppo e singola. Per gli altri reati, stalking e minacce è scattata la prescrizione, dunque nessuna condanna. Lo stesso dicasi per un altro cugino della vittima, un 34enne, difeso dagli avvocati Massimo Bellini e Federica Conte. Condannato in primo grado a nove anni e tre mesi di reclusione, al netto dei reati ascritti, anche lui è stato assolto dalla violenza di gruppo, perché il fatto non sussiste. Quanto alle donne coinvolte nell'inchiesta, due zie della vittima e la fidanzata di un cugino, la prescrizione ha annullato le precedenti condanne. Alle zie, di 61 e 55 anni, erano stati inflitti 4 mesi e 15 giorni, per minacce aggravate, stalking e atti persecutori. La ragazza, una trentenne, era stata invece condannata a sei mesi. A difenderle gli avvocati Marco Pezzuto, Parideleo e Federica Conte.